Sì, le case sono fatte per essere rotte, non sono una barriera impenetrabile. Sì, le case sono fatte per essere rotto. Sì, le case sono fatte per essere rotte, non sono una barriera impenetrabile. Sì, le case sono fatte per essere rotto. Sì, le case sono fatte per essere rotte, non sono una barriera impenetrabile. Sì, le case sono fatte per essere rotto. Non capillare! La cassa vitro è una tecnologia promettente, ma va approfondita prima di implementarla. Sì, le case sono fatte per essere rotte, non sono una barriera impenetrabile. Sì, le case sono fatte per essere rotte. Sì, le case sono fatte per essere rotte, non sono una barriera impenetrabile. Sì, le case sono fatte per essere rotte, non sono una barriera impenetrabile. Sì, le case sono fatte per essere rotte. Sì, le case sono fatte per essere rotte. Ne facciamo un altro? La cassa TNT, un classico Ho preso l'idea dai cartoni animali La cassa TNT, un classico Rispetto all'ultimo soggetto, questo presenta il vantaggio di avere un cranio più spesso Sul serio? Quelli dai bombati sono fragili come vetro Usa TNT, un classico Esperimento riuscito! Vediamo come va stavolta! Il soggetto sta benissimo con i miei vecchi pantaloncini! Ah, adoravo quei pantaloncini! Avevano un sacco di spazio per... Ah, 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 ah... ottima prova! prova, prova! salve il soggetto! sono io il tutto di un antrusbrio, il tuo futuro padre tratta di un'unico il mettero Sì, sarai un degno alleato Sembrio, stai conducendo il mio esperimento? Fuori di qui! Sì, è il nostro piano Sì, è il nostro piano Molto bene, una prestazione stellare! Quando vuoi! Ho instaurato con il soggetto un rapporto, oserei dire, paterno Aspetta, ho premuto il pulsante sbagliato Il soggetto, ora è il mio ultimo messaggio Perchè! Cosa che vuoi conocere! Questa è la mia! Questa è la mia! Questa è la mia! Questa è la mia! Un altro test è superato! Un altro test è superato! Un altro test è troppo severo con embrio, mi preoccupo per lui! Un altro test è troppo severo! Un altro test è troppo severo con embrio! Preparati per un'accidenta sorpresa! Un altro test superato! Un altro test superato! Un altro test superato! Un altro test superato! Pat! È l'allarme compleanno! Tanti auguri, scampetto! Spero che ti piaccia la torta di buffa! Ho proibito a Embryo di andare in bagno finché non avrà perfezionato la ricetta! Patrone, per favore! Per favore! Per favore! Un successo assoluto! Per favore! 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 Grazie a tutti. 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 Inizio registro. Nuovo soggetto. Nome in codice Coco. Se quel furfante di tuo fratello non fosse scappato non saresti sola, ha detto. Se c'è un cattivo qui è Crash. Grazie a tutti. Ah, c'è un cattivo. Grazie a tutti. Molto bene, una prestazione stellare. Dominare il mondo è un processo lungo e faticoso. Parlami dei tuoi titoli. Beh, ho una laurea in dispositivo. Aspetta. Aspetta. Embrio! Aspetta. 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 Completato. Aspetta. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Continua così. Salve, gatto. Oggi sarò io a condurre l'esperimento. Per l'ultima volta. Non è un gatto, è un bandicoot. Bandicoot? Oh, non assomiglia un bandicoot. Per l'ultima volta. 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 Il carburante. Per l'ultima volta. Per l'ultima volta. Per l'ultima volta. Altro giorno, altro provo Questo è l'ultimo Bandicoot Se l'esperimento non funziona, dovrò cambiare animale Vediamo, abbiamo cocodrilli? Scegliere è molto difficile Incredibile! Scegliere è molto difficile Non è stato facile trovare abiti confacenti per Coco Ma ho superato me stesso Scegliere è molto difficile E la mia sono fatta quella, me l'avete uscito Scegliere è molto difficile Scegliere è molto difficile Scegliere è molto difficile Coco sembra affascinata dalla tecnologia O forse è solo pissata con i videogiochi Scegliere è molto difficile Scegliere è molto difficile Scegliere è molto difficile Grazie a tutti 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 Grazie a tutti